come nuovo scusa però io faccio una domanda buonasera chiedo scusa per il disturbo mi chiamo Gianfilippo Neri ho visto l'inserzione a spd.it dell'impollinatore avere qualche informazione si impiusa e si poteva avere se non disturbo no no ce l'ho ce l'ho si ce l'ho io ce l'ho ce l'hai ce l'hai? e senti mi puoi dare qualche informazione del simpollinatore diciamo l'utilizzo perché mio padre ha preso questa fissazione capito dell'impollinazione del kiwi allora noi io però so in campania va bene a Portici io a Portici ma giù verso Napoli? eh bravo diciamo è proprio proprio chi me c'è praticamente Napoli tu va e Portici è proprio attaccato proprio capi come ti voglio dire Roma con Marino va bene senta senta dica io ce l'ho ecco diciamo è come nuovo e questo l'ho capito che lo tieni come nuovo scusa però io faccio una domanda io mi chiamo Gianfilippo Neri io ho visto l'inserzione a spd.it dell'impollinatore per kiwi ma se tu te lo togli non è diciamo che te lo togli perché non funziona no me lo tolgo perché non mi serve più ecco no te lo tolgo hai smesso di impollinare sì sì non c'ho più niente non c'ho più niente io l'ho fatto l'ho fatto e come vai te lo tolgo tutto? non c'ho più niente se ti interessa e no dica come vai te lo tolgo tutto? e perché qua non si vende più niente no la crisi la crisi non si vende più niente non si vende i kiwi giustamente quello dici ho impollino che cazzo impollino a fare se il kiwi non si vende? che cosa faccio? no io non ho levato tutto kiwi uva tutto ho levato e basta non c'ho più niente e senti scusa se mi faccio fare io come vivi scusa adesso se non fai più niente? no io lavoro 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 di giornata lavoro per conto mio lavoro sotto la ditta poi faccio lavori per conto mio ecco perché papà praticamente ti spiego ciao lui praticamente vuole una razza particolare una razza una spesa particolare di kiwi che si chiamano i kiwi i kiwi a biwi che? e vuole sapere se l'impollinazione è la stessa i kiwi normali con i kiwi a biwi senti io non è che me ne intendo tanto da stessa di kiwi e che kiwi a biwi allora se tu non te ne intenda? ma ma chi? lasciati qua ma che è un scherzo eh? no io volevo sapere se tu non te ne intende di kiwi a biwi i kiwi a biwi e i kiwi a morti ragazzi però scusa oh oh mamma mia troppo divertente troppo divertente grazie grazie